che è importante avere una mappa accurata e completa non vale solo per il coach ma vale anche per il venditore abbiamo detto che il modello concettuale è una mappa una mappa che contiene degli schemi mentali cosa sono gli schemi mentali sono quelle cose che governano il nostro modo di guardare la realtà sono quelle cose che in base a come la guardiamo danno un significato a quelle cose e determinano noi come ci comportiamo ci siete fino qui qual è il macro schema mentale o qual è il macro fattore di questa mappa che deve avere un venditore per essere un nuovo venditore efficace è lo schema mentale su l'essenza del suo mestiere se in base al mio macro schema mentale di una mappa fallace quindi poco efficace io interpreto do un significato al mio mestiere colui il quale convince qualcuno a fare qualche cosa faccio un errore perché tendenzialmente chi vuole convincere tende a dire delle cose se invece un venditore ha una mappa che parte da uno schema mentale accurato e non farlocco come quello di prima e uno schema mentale accurato per un venditore è capire i problemi del cliente e capire se il prodotto servizio che propongo è il migliore incrocio tra il problema del cliente e la miglior soluzione possibile per il cliente cambia tutto o no cambia tutto perché anziché dire e fare quello che il mio cliente chiamava la brussura ambulante boom 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 compro perché siamo nel 1952 che facciamo questa cosa qui siamo i primi nel mercato perché sai ba 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 quindi modalità convincente vado in modalità comportamentale coach il coach cosa fa delle domande mi seguite quindi il primo macro schema che può compromettere la mappa del venditore è il macro schema che riguarda l'essenza del mestiere del venditore stesso se il venditore ha una mappa che dice guarda tu come mestiere devi convincere la gente fra qualcosa ergo devi parlare una buona parlantina e devi essere in grado di vendere questa è una metafora che si usava ai miei tempi sbagliata il ghiaccio agli schimesi il ghiaccio agli schimesi come dicevamo prima glielo vendi una volta poi dopo non te l'acquistano più giustamente quindi vedete come la mappa cioè la mappa è l'insieme degli schemi mentali cioè di come tu guardi alla realtà se guardi la realtà in un modo cioè la interpreti dai un significato di un certo tipo ti comporti in un certo modo e quindi se la mappa del venditore non è accurata succede che nel comportamento farà delle cose che non lo aiutano a vendere mi seguite è abbastanza semplice detto così questo è il primo macro schema mentale poi l'altro aspetto che rende calzante e rende veritiera l'affermazione che il modello concettuale quindi la mappa con l'insieme degli schemi mentali che riguardano tutti i fattori che determinano un risultato è importantissima per il coach ma come è importante per il coach che se la mappa non è chiara il coach va a sbattere ed è valido per il venditore perché se il venditore non ha una mappa curata poi il potenziale cliente non compra riguarda il reticolato delle cause che sono nella mappa del venditore se il venditore non ha chiare quali sono tutti i fattori tutti i variabili tutte le cause che concorrono a determinare il risultato desiderato dal cliente perché il cliente cosa vuole il cliente nella situazione attuale che tendenzialmente non gli piace e vuole arrivare alla situazione dove c'è un risultato che lo porterà ad essere più felice l'ho banalizzato ma è abbastanza così o no cioè uno quando è che compra qualcosa quando una situazione attuale è triste sì o sì e quindi vuole andare in un'altra situazione dove grazie al risultato è felice ma abbiamo detto prima che il modello concettuale è la mappa che contiene tutti i fattori che determinano un risultato se il venditore ha una mappa che di dieci fattori che determinano un risultato ne vede quattro riuscirà a accompagnare il cliente a fare la scelta giusta quindi se un venditore arriva da un cliente fa qualche domanda ma uno le domande le può fare sulle cose che vede della realtà io come faccio a farti delle domande sulle cose che non vedo e quindi torna di nuovo il mantra di prima tu non puoi gestire tu non puoi intervenire su qualcosa che non vedi e sulla base di che cosa vediamo sia che tu facci il venditore sia che tu facci il genitore sia che tu facci l'imprenditore vediamo le cose sulla base di una mappa che tecnicamente per chi ha un po un approccio tecnico questa mappa si chiama modello concettuale allora se il venditore ha una mappa dove ci sono dieci fattori potenziali e lui in questa mappa qui ne ha solamente quattro come farà a vendere in maniera efficace per far avere un buon risultato al proprio cliente in seguite questo è l'altro motivo per cui il mestiere di coach e il mestiere di venditore hanno forti punti di contatto in particolare il punto di partenza è sull'avere una chiara mappa ok